Se la squadra rimane in mezzo al campo, la squadra esterna può disporsi per il campo di gioco quando deve riuscire a passarsi una palla e per centrarla le volte in cui deve mangiare. Chi viene preso dal prigione e si può liberare dalla prigione solo se la squadra è all'interno se la squadra è fuori di gioco, se la squadra passa sempre al volo, non può riportare la squadra. Già un gol a più, già un gol a più e siamo in fronte. Pistole di là, vengono iniziato. Grazie. Grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti Lasciate andare la palla Passate, rinclate, fate forte Grazie a tutti 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 Grazie a tutti